Cinghiali all'interno del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Dopo la chiamata al 113 di una coppia di turisti del Nord Italia che per sfuggire agli animali si sono arrampicati su un albero, la presenza dei cinghiali è stata documentata con un video. Immagini che ieri sono state diffuse dall'associazione ambientalista Mare Amico. I cinghiali si trovavano a pochi metri dal posteggio del Tempio di Giunone, rende noto Claudio Lombardo, il responsabile. dell'associazione. Le segnalazioni erano diverse e in più zone. È da almeno due anni che si vocifera di avventori e agrigentini che incontrano i cinghiali tra le colonne doriche. È giusto ricordare che nonostante la simpatia che possano riscuotere, si tratta di animali che possono anche diventare aggressivi e quindi pericolosi per i visitatori. Il direttore del parco archeologico, Giuseppe Parello, si è messo in contatto, tornando a fare una nuova segnalazione con la ripartizione faunistico-venatoria. Stabiliremo una collaborazione, ha spiegato, ma i dettagli sono da definire.